Oggi continuiamo la descrizione di Phil, di una città di Atlantide, e qui ci sta parlando dei cristalli. Avevi detto che erano energizzati da raggi d'energia che erano proiettati da qualche parte come delle autostrade? Esattamente. Per trasporti di lunga distanza c'erano dei fari d'energia cristallina. Irradiavano energia cristallina che si allineava per permettere al sentiero di raggiungere un altro faro che sarebbe stazionato ad un punto in lontananza. Bastava semplicemente allineare le proprie astronave o veicolo lungo questi fasci d'energia e poi farsi condurre o propellere verso questi fari. Era necessario ridirigere l'energia per poter andare avanti o indietro da un punto all'altro. Era solo una questione di arrangiare i cristalli, le unità di propulsione, così che la propulsione avvenisse in una direzione o nell'altra. I raggi o i fari erano abbastanza lunghi da permettere a molte navi di viaggiare anche in direzioni opposte simultaneamente lungo questi raggi. Non era, come qualcuno ha interpretato, un raggio stretto e ridotto, ma largo e generico. Quindi questi fari erano messi in luoghi diversi sul pianeta? Non tanto sul pianeta perché la conoscenza e consapevolezza necessaria per utilizzare questa forma di trasporto non era prevalente ovunque. Erano in tutto il continente, in diversi luoghi strategici o importanti, non era casuale. C'erano quelle aree che avevano bisogno di questi fari e alcune aree che non ne avevano bisogno. Quindi i veicoli in questa città funzionavano diversamente? C'era energia disponibile in tutta la città, quindi non c'era bisogno di fare oraggi. L'energia disponibile nell'atmosfera circostante o l'energia ambientale era sufficiente per permettere il volo di queste navicelle in qualsiasi direzione desiderassero gli occupanti. Erano in grado di attingere all'energia prodotta dai cristalli nei edifici della città stessa? Esattamente, quindi se volevi uscire dalla città dovevi usare l'altro tipo di veicolo? Esattamente. Cosa mi dici della comunicazione all'interno della città? Era di natura telepatica, non c'era bisogno di telefoni come li vediamo oggi. Gli abitanti erano naturalmente molto telepatici, erano consapevoli e comunicavano con chiunque volessero in qualsiasi momento. Tuttavia c'erano ciò che chiameresti macchine. Erano simili ai vostri computer, erano dei distributori ed accumulatori di conoscenze e informazioni. Erano utilizzati principalmente all'interno della città per comunicazioni di informazioni più accurate. La gente era in grado di comunicare telepaticamente su lunga distanza? Proprio così, c'erano coloro che potevano comunicare tra diverse zone del pianeta. Non c'era bisogno di forme artificiali di comunicazione. Non c'era nemmeno bisogno di limitarsi solo al pianeta perché avevano la capacità di comunicare con coloro che erano su pianeti piuttosto distanti, solo attraverso la telepatia. Questo tipo di comunicazione è ancora disponibile oggigiorno, se fosse riconosciuta come tale. Reattivata in una certa misura? Esatto. Tutti sul pianeta avevano la capacità di comunicare? No, perché c'erano coloro a cui non interessava. Forse non sentivano le necessità di comunicare così e non erano interessati a imparare ciò che era necessario per permettere questo tipo di comunicazione. Quindi l'intero pianeta non era così altamente evoluto. Esatto. C'erano quelli che desideravano la dedizione e la conoscenza che avrebbe permesso questa comunicazione. La comunicazione non era il punto focale della ricerca della conoscenza, non era il fine dei mezzi. Perché comunicavano con altri pianeti? Venivano condivise informazioni che permettevano una comprensione superiore di se stessi, riguardo al proprio sé ed altri. Era stata resa disponibile grazie al progresso della consapevolezza sociale degli abitanti, una comprensione completa delle funzioni sociali a livello planetario. La gente degli altri pianeti li contattavano quando si erano evoluti al giusto livello? No, era semplicemente una questione di evoluzione e di consapevolezza. Tale che la consapevolezza di quell'oro che erano sul pianeta presto raggiunse un livello al quale erano consapevoli di molto altro oltre alle loro specie sul loro pianeta. La loro consapevolezza si allargava ed aumentava fino a permettergli di comunicare tra gli altri pianeti. Avevano anche un contatto fisico con la gente da altri pianeti? Sì, come abbiamo visto precedentemente, gli era data la possibilità di comunicare direttamente o incontrare in persona coloro che erano di altra natura. Sì, avevi detto che a certi individui era permesso uscire dall'atmosfera. Esattamente. Anche la gente di altri pianeti venivano qui? Esattamente perché c'era la percezione che uno scambio di conoscenza sarebbe stato benefico per entrambi i lati. In questo modo la loro educazione era più completa e radicata. Sa se questa comunicazione andava avanti da lungo tempo prima che ne fossero consapevoli? In un'altra zona dell'universo c'era comunicazione fin da prima della nascita del pianeta. Tuttavia la consapevolezza raggiunta da quella specifica parte della popolazione permetteva la comunicazione tra di loro e quelli di altri pianeti. Ero curiosa di sapere se la gente di altri pianeti fosse venuta sulla Terra per modo di dire prima che gli abitanti se ne accorgessero. C'erano per molto tempo prima dell'incarnazione degli Atlantidei, visite che permetteva l'esistenza di una consapevolezza del pianeta in altre aree dell'universo. Non era ignoto che il pianeta si stesse evolvendo in questo modo e si vedeva che l'evoluzione era tale che prima o poi ci sarebbe state forme di comunicazione telepatiche tra gli esseri lasciati su pianeti che non viagiavano, gli abitanti di pianeti di nuova evoluzione. C'erano altre tipologie di macchine in quella città. C'erano macchine per la comunicazione e anche quelle per la raccolta e immagazzinaggio delle informazioni. C'erano macchinari che assicuravano un certo livello di agio all'interno degli edifici. C'era il macchinario per preservare così che il cibo, gli articoli d'abbigliamento e simili rimanessero intatti, puliti e in ottima condizione. Questa è una parola interessante, macchinari di preservazione. Sto pensando ai nostri frigoriferi, ma non poteva essere visto che stavi parlando di vestiario. Qui stiamo parlando in categorie più ampie, non solo di un singolo concetto. Il concetto infatti è molto simile a quello del frigorifero e della macchina lavatrice, che sono così comuni nella vostra società attuale. Quindi presumo che c'è sempre stata la necessità di queste cose. Esattamente, la necessità di pulizia e preservazione è stata prevalente nell'uomo per molti secoli. Ci sono animali dentro alla città? Non ritenevano appropriato in questa città di cristallo che fosse permesso agli animali di girare liberi per le strade, come era comune in altre aree del continente in quel periodo. Gli animali non sarebbero stati in grado di adattarsi al tremendo potere energetico della città. La durata della vita della gente era circa come la nostra? Era un po' più corta dello standard comune in questo periodo di tempo, tuttavia non a causa di cattiva salute. Vivere in questa energia in qualche maniera riduce l'aspettativa di vita. Tuttavia l'accumulazione di conoscenze era tale che uno poteva imparare in molto meno tempo ciò che avrebbe potuto richiedere molti, molti anni in susseguimenti di vite passate inferiori. Era come se i processi educativi fossero velocizzati. Vivendo con le energie i corpi fisici erano utilizzati maggiormente e velocemente rispetto a quelli che vivevano al di fuori delle energie. Le malattie e la cattiva salute prevalenti in altre aree del pianeta in gran parte non esistevano in quello specifico tipo di città. Quindi il resto della gente sul pianeta aveva una vita diversa rispetto a coloro che vivevano in questa città. Esattamente. Quello che vivevano nelle città energetiche avevano una vita un po' più corta rispetto a ciò che era considerata la media. Probabilmente la media era tra i 45 e 50 anni. Coloro che vivevano all'esterno, che facevano parte di un ordine superiore ed erano consapevoli della pulizia e della dieta, potevano aspettarsi di vivere fino a 60 e 70 anni. Tuttavia c'erano coloro che erano primitivi, la cui vita era molto inferiore. Presumo che tutto questo avesse anche a che fare con avanzamenti medici. Esattamente. Era semplicemente il livello di consapevolezza a dettare l'aspettativa di vita. E qui Dolores dice, decisi di concludere la seduta perché sentivo che avevamo imparato abbastanza riguardo alla città di Cristallo. Chiesi se poteva tornare in un altro momento e ricevere informazioni riguardo alla loro conoscenza e alle loro abilità. E qui loro gli risposero attraverso Phil. Cercheremo di darti ciò che è più appropriato in quel momento. Speriamo che tu comprenda come il fattore di appropriatezza sia la linea guida in ognuna di queste sedute. Perché ciò che potrebbe essere appropriato in una seduta potrebbe non esserlo nella successiva. Dipende forse dal tipo di energia che risponde alle domande. Dipende dall'energia dell'intera situazione perché ci sono molti partecipanti in questo sforzo, ma è il tuo sforzo che ha un effetto sull'intera operazione. È questa somma totale delle condizioni delle energie che costituisce il fattore di appropriatezza. Lo proteggeremo nei suoi sforzi di comprendere se stesso e la sua vita, che come sempre può essere molto distinta e separata. Perché spesso la gente sente di essere ciò che vive, mentre in realtà la propria vita non è altro che un'estensione del proprio sé. Il proprio sé può diventare piuttosto separato dalla propria vita. Qui definire la vita dal punto di vista sociale, culturale e non in un senso fisico. L'esperienza di vivere allora diventa la propria vita. E così uno filtro attraverso questo concetto di vita, quelle esperienze che sono l'esperienza stessa della vita. E qui Dolore dice, questa era una seduta difficile per me, sembrava che ci fossero un'energia che emanava da fila, anche se non era nella vicinanza della città. Mi diede un po' di mal di testa e disturbo il mio modo di pensare e porre domande. Trovai difficile concentrarmi e fare domande. Inoltre fu strano che quando me ne andai da questa seduta per andare verso l'appartamento di John per una seduta sul materiale di Nostradamus, feci un'altra strana esperienza. Questo era il giorno in cui il malefico Iman mi aveva attaccato con la sua energia. E qui fa una parentesi dell'incidente riportato in Nostradamus volume 2. Due occasioni in un giorno di essere esposta ad uno strano tipo di energia. Coincidenza? E qui Dolores continua dicendo, ecco a voi altre informazioni che provennero da Phil durante un'altra seduta la quale facevo domande riguardo ai misteri della Terra. Sto cercando di raccogliere le ultime informazioni riguardo alla storia di Atlantide. Dissero che la gente di Atlantide aveva sviluppato una grande abilità mentale. Potevano fare molte cose con la loro mente che sono impossibili per la gente del nostro tempo. Puoi parlarmi delle abilità che la gente di Atlantide aveva a livello mentale? Esistono cose che erano più apparenti a coloro che voi chiamate gli Atlantidei. La gente era più connessa al respiro dell'esistenza ed erano in grado di percepire di più. E i talenti di questi individui erano molto più motivati da un desiderio di imparare piuttosto che da un desiderio di guadagnare che ciò che si trova nella vostra società in questo periodo di tempo. Cosa potevano fare che noi non possiamo fare oggi? Non c'è nulla che facevano allora che non potrebbe essere fatto oggigiorno. Tuttavia la motivazione fosse assente nella maggioranza delle persone che vediamo sul vostro pianeta in questo momento. Sono in molti che stanno cercando di reacquisire quella conoscenza persa. Ma quali poteri avevano che noi abbiamo perso? L'abilità di metamorfizzare è stata dimenticata ed è caduta in disuso. Questa era la capacità di cambiare la propria esistenza da un particolare essere ad un altro. Si tratta semplicemente di una questione di riassemblare la propria struttura atomica per identificarsi più similmente con un altro già identificato e stabilito gruppo di armonie atomiche. La capacità di farlo ha molto a che fare con l'accettazione di modelli di vita che sono oltre a ciò che si conosce oggi. Il concetto è che nelle formazioni di un pianeta fisico ci sono contatti tra energie che costruiscono questo pianeta secondo i quali queste e quelle energie saranno così cose e altre energie invece saranno così e così. Ci si accorda che le rocce saranno rocce e gli alberi saranno alberi. Questo è in armonia con i desideri e la necessità delle energie individuali. Tuttavia ci sono coloro che hanno l'abilità di cambiare la propria realtà convenzionale per potersi rimodellare con un'altra creatura o realtà. Questo non è una trasgressione delle leggi universali ma solo un'applicazione della legge universale. Molte persone nel vostro pianeta oggigiorno hanno l'abilità di farlo ma hanno paura di questo talento. Ne sono consapevoli e sanno come farlo ma sono limitati da molte tipologie di paure e costruzioni di lealtà quindi si rifiutano di riconoscere l'esistenza di questi talenti. Tuttavia in Atlantide era una cosa comune. E qui Dolores dice questa era la prima volta che sentivo parlare di questo concetto al di fuori di qualche versione hollywoodiana. Volevo dei chiarimenti. Vorresti dire che invece dello spirito che entra nel corpo di un animale gli bastava trasformare il loro corpo di umani nella forma di un animale e poi ritrasformarsi? Esattamente. Semplicemente era un rimodellamento dell'anatomia generale di una particolare esistenza tale che allora diventa un altro tipo di esistenza differente. Sono vibrazioni differenti. Cambiare la propria vibrazione da quella di un albero a quella di una pietra sarebbe semplicemente una questione di adattamento. Ci sono quelle entità che possono farlo volontariamente per qualsiasi scopo. Tuttavia si scoprì che durante il periodo di Atlantide prima della distruzione molti utilizzavano questo talento ed abilità per causare molta distruzione e danni non solo a coloro che li circondava ma anche a loro stessi. L'ordine superiore e l'anatomia di questa abilità venne scartato in favore di interessi e guadagni personali e così il talento venne perso. Per quale motivo qualcuno avrebbe voluto farlo? Più o meno sembra quasi come un gioco? Non ci sono giochi della vita che non insegnano tuttavia ci sono alcuni giochi che si possono fare in modo massano e maligno. A quel punto si poteva vedere che erano giochi che portavano alla morte e alla distruzione. Questi giochi allora stavano diventando dei rischi per gli individui coinvolti. ma come poteva la metamorfosi il cambiare da una forma all'altra causare morte e distruzione? L'atto dell'inganno e del tradimento non era sconosciuto in quei tempi quindi puoi vedere apparentemente che la malizia regnava su una civilizzazione a causa di coloro che potevano trasformarsi in un'altra persona ed imitarla. Perfino nella tua vita se potessi rappresentare te stessa come qualcun altro faresti degli scherzi sotto forma di quella persona. Quando si estende tutto questo a livello di incrociare le personalizzazioni tra una specie e l'altra allora in molti diventerebbero confusi sulla loro vera identità non sarebbero più chi e cosa fossero veramente. Quindi stai dicendo che lo facevano con gli scopi sbagliati? Esattamente gli scopi per cui gli venivano dati questi talenti erano stati scartati ad una velocità allarmante e così si vedeva che questa abilità doveva necessariamente essere rimossa a fine di prevenire la completa distruzione della civilizzazione intera. Questo è connesso forse con la leggenda dei metà uomini e metà animali? Esattamente Minotauri per esempio c'erano coloro che si trasformavano in ciò che era diventato uno e tuttavia mantenevano l'aspetto di ciò che era l'altro. A quel punto erano confusi riguardo alle loro due identità riguardo a ciò che fossero veramente. Così trattenevano entrambi. Quest'abilità poi andò degradando in una confusione di identità di entrambi le realtà o esistenze tale che c'era il pericolo della perdita generale dell'identità di tutte le specie. Alla fine viderò che questa abilità di cambiamento non era permissibile. Ho sentito che facevano queste cose ad altre persone senza il loro permesso. per riuscire a fare questo era necessario che la consapevolezza dell'individuo sapesse non solo ciò da cui proveniva ma anche ciò verso cui andava. Quindi necessariamente ci doveva essere la consapevolezza attiva di questo processo per riuscire a portarlo a termine. Vediamo che c'erano casi in cui venivano date istruzioni su come cambiare questo individuo in quella figura e poi venivano date altre istruzioni su come cambiare quell'individuo in un altro così che l'identità originaria andava perduta. Avevano visto che questo era il modo di rimuovere qualcuno dalla scena per modo di dire per cambiare in qualcosa che era meno preoccupante o più neutrale. Wow ma questi davvero va contro alle leggi morali e anche alle leggi universali. Ovviamente la tecnica era in linea con le leggi non sarebbe stato possibile farlo se non fosse stata una legge già stabilita. Il fatto che fosse possibile suggerisce che era già stabilita come una legge. Le implicazioni morali di queste azioni erano tuttavia in diretto conflitto con il carattere dato a questo pianeta al momento della distribuzione della vita in tale senso che l'avanzamento della razza sarebbe migliorata e non peggiorata. Questo mutamento incrociato venne visto come qualcosa che peggiorava il progresso e quindi venne eliminato. C'era qualcos'altro che erano in grado di fare con le loro menti che abbiamo perso o che non abbiamo sviluppato in questo momento? c'erano molti molti diversi talenti come li chiami tu tuttavia sono solo riconoscimenti di verità universali col tempo verrà data ancora una volta la consapevolezza e la capacità di riconoscere e usare queste realtà per mancanza di termini migliori. Questa era una delle cose che ho sentito che inizieranno ad abusare delle loro abilità e delle leggi dell'universo quella era una delle ragioni per cui dovettero fermarli? Esattamente allora io mi fermerei qui e domani partiamo da qui ciao a tutti a domani un